Chiederemo nuovamente un incontro congiunto con tutte le figure istituzionali partendo dal presidente Emiliano, dal dirigente al welfare e questa volta chiederemo l'intervento del garante per la disabilità Pino Tulipano di recente nomina. Obiettivo avere tutti i dati aggiornati entro e non oltre il 10 maggio. Sempre più agguerrite e determinata, vederò temperate le promesse fatte nel corso della grande manifestazione di circa un mese fa dinanzi alla sede della Regione Puglia, al momento non ancora mantenute, Mariangela Lamanna, presidente del comitato 16 novembre Onlus a sostegno dei disabili gravissimi che da oltre otto mesi attendono l'erogazione degli assegni di cura necessari per l'assistenza ai disabili bloccati dallo scorso luglio. Al momento, fa sapere Lamanna, interpellata telefonicamente, a rispondere presente ottemperando agli impegni assunti solo l'ASL-BAT. Il governatore Emiliano, dice Lamanna, ci ha fatto sapere di aver stanziato i 20 milioni di euro promessi per far fronte all'aumentato fabbisogno che si vanno ad aggiungere i 30 già disponibili, ma la verità è che ad oggi solo l'azienda sanitaria della sesta provincia pugliese ha reso noto di aver concluso l'istruttoria per la classificazione e riclassificazione degli eventi diritto. A mancare le risposte delle ASL di Taranto, Brindisi e Lecce che si erano impegnate, altre sì, a concludere le istruttorie entro il 15 aprile. Quelle di Bari e Foggia, a causa del numero importante delle domande pervenute, avevano invece richiesto 15 giorni in più per completare le istruttorie. A mancare, inoltre, fa sapere Lamanna l'accordo raggiunto nel mese di febbraio scorso, secondo cui ci sarebbe dovuto incontrare con cadenza quindicinale per approntare un nuovo bando, visto che quello attuale è di imminente scadenza, incontri che ad oggi non si sono ancora tenuti. Il dato preoccupante, insiste Lamanna, è quello che vede 9.200 domande, di cui solo 4.000 conosciute all'ASL e di quelle 9.000 persone. Alla data della manifestazione, il 15 marzo scorso, oltre 600 erano deceduti aspettando in mano un assegno di cura. Tutta colpa di una burocrazia troppo lenta e ferraginosa in cui ha inciso il malfunzionamento della piattaforma telematica gestita dal sistema Puglia. C'è da capire, infine, conclude Lamanna, se i 50 milioni stanziati al momento saranno sufficienti. Per questo motivo sollecitiamo a convertire le parole in operatività, così come fatto dal direttore generale dell'ASLBAT, Alessandro Deledonne, che attraverso una comunicazione ufficiale ha fatto sapere che l'11 aprile scorso è stata adottata la deliberazione numero 588, con la quale sono stati corrisposti ulteriori 251 assegni di cura nei confronti di altrettanti beneficiari che si vanno ad aggiungere i precedenti 145 recentemente erogati.